Insomma, si è reso necessario, quindi parliamo. Salve a tutti amici e benvenuti in questo video dove analizziamo un pochino lui, il Mac Mini M4. Questo video si è reso necessario dopo le mie opinioni, un video ovviamente che strizzava l'occhio all'essere guardato dato il titolo, che erano i 5 motivi per cui non comprare un Mac Mini, che in realtà era totalmente goriardico. Però alcuni l'hanno capito, altri invece un pochino no, volevano ascoltare una vera seconda opinione. Ed ecco la mia opinione. Prima che mi dimentico, iscrivetevi al canale, perché è una pratica gratuita per voi e che a me dà un enorme boost. La mia opinione però arriva dopo averli provati. Sono arrivati circa una settimana fa e ne ho presi due. Ho preso il Mac Mini M4 base, quindi quello da 730€, una cosa del genere, e l'altro che è praticamente esteticamente uguale, ma è il Mac Mini con M4. La versione configurabile, l'unica disponibile su Amazon, non quella configurabile dal sito Apple. Quindi ho testato quella che è la macchina disponibile su Amazon attualmente, che è la configurazione base dell'M4 Pro. Prima di addentrarci un attimo nell'analizzare cosa ho fatto e dei computer in sé, delle differenze tra i due computer, veniamo un attimo a quali sono le differenze. Esteticamente in realtà sono uguali. Quello che cambia ovviamente è all'interno, dove troviamo nel Mac Mini base, lo chiameremo base e pro perché altrimenti non me ne esco più. Nella versione base troviamo 5 porti in totale, 2 USB-C sul fronte, 3 Thunderbolt 4 sul retro, una porta HDMI, porta Ethernet da 1 gigabit e il cavo d'alimentazione. Il cavo d'alimentazione è che non porta trasformatore, il trasformatore è all'interno della macchina. E già questo lo rende ancora di più straordinario per come è stato ingegnerizzato, perché poi tra le altre cose è molto ma molto leggero. La differenza grande con la versione M4 Pro è che le tre porte dietro non sono Thunderbolt 4 ma sono Thunderbolt 5. In soldoni hanno molta più banda di trasmissione e per questo possono trasferire molte più informazioni per ogni porta. Parliamo di circa 120 gigabits o una cosa del genere. Una cosa che è configurabile soltanto in CTO, quindi nelle versioni personalizzabili, è la porta sul retro che può essere da 10 gigabit. In realtà io ho scelto di non comprare una CTO, quindi una versione configurata, e di adattare questa macchina con un adattatore per superare la gigabit. Mi spiego, in ufficio dove queste macchine sono destinate a lavorare abbiamo una sottorete 10 gigabit, in realtà abbiamo la 10 gigabit come internet, però abbiamo una sottorete specifica per il reparto post-produzione a 10 gigabit e tutte le macchine presenti in ufficio lavorano su quella rete e sui server presenti in quella rete che sono a 10 gigabit. Quindi in pratica ogni macchina non ha nulla sull'hard disk e lavora direttamente con i server sopra i NAS. Ed è per questo che in realtà anche la versione configurata di base con 256 gigabit di SSD, per quanto siano pochi, perché effettivamente sono pochi per lavorare, nel caso del nostro utilizzo almeno tutti i file pesanti rimangono sui server, viaggi a 10 gigabit e monti direttamente online. Ma avendo soltanto la porta a 1 gigabit potrebbe diventare limitante. Quindi, spippolando un po' su Amazon, ho trovato un adattatore USB-C 3.2 a porta 2.5 gigabit, che in realtà per le sessioni di montaggio, quale queste macchine sono destinate, è performantissima, perché i 10 gigabit in realtà servono quando bisogna trasferire e leggere tanti dati contemporaneamente, ma tantissimi. Mentre per la parte di montaggio queste vanno più che bene. Quindi, in pratica con 20 euro, lascio il link qui sotto in descrizione se qualcuno è interessato a questo tipo di adattatore, con una ventina di euro ho risparmiato circa 150 euro, se non vado errato, che è la richiesta di Apple per avere quella porta configurata sul retro del Mac Mini. Ovviamente, per chi dovesse acquistarla e sceglie di utilizzare quel tipo di porta, e ne ha necessità, probabilmente, se va a fare una configurazione un pochino più complessa, da infilarci quei 100 euro in più, male non fa per avere la 10 gigabit. Qual è stato il mio approccio verso questi test? Questa, chiamiamola recensione, quando in realtà, in realtà, è una mia opinione un pochino più approfondita riguardo questi computer, è stata di tipo pragmatico, quindi capiamo quali sono i suoi limiti. Ovvero, capiamo dove sono i limiti di queste macchine, oltre a quelli della scheda tecnica, ovviamente, mettiamole al lavoro e vediamo che cosa succede. Questo, diciamo, è stato il mio approccio. Ma mettiamole al lavoro in un ambito specifico, perché questa macchina da 729 euro, senza fare alcun test, quindi guardando semplicemente la scheda tecnica e quello che Apple ci dice, già vi posso dire che per l'home automation, per uno studente, per la utilizzare come media server, da utilizzare come server per la domotica, da utilizzare come computer di casa per navigare, scrivere documenti, fogli Excel, questa macchina è già perfetta senza neanche testarla. Già la consiglio a chiunque abbia bisogno di un computer a casa. In molti hanno detto, sì, però c'è bisogno di capire quanto costa una configurazione completa, perché questo è soltanto il cervello del computer, il computer in sé, ma se stiamo ad ascoltare Apple, una configurazione con questo computer da 729 euro, e compra il monitor, e compra il mouse, e compra la tastiera, arriviamo a 4.000 euro almeno, tra lo studio display di Apple, il mouse di Apple, la tastiera di Apple. In realtà di tutte queste cose non ce n'è bisogno, infatti in descrizione vi lascio quella che secondo me è una configurazione da casa per un utilizzo quotidiano di questa macchina, con un fantastico mouse performantissimo, senza fili, una tastiera senza fili, un monitor senza grosse pretese, è una configurazione che con 150-200 euro in più rispetto alla macchina, uno ha un computer finito. Computer finito cosa significa? Che ci va in rete, ci scrive documenti, ci naviga, ci legge la posta, ci può giocare, perché ovviamente questa macchina già nella configurazione base permette di giocare col computer, ovviamente non parliamo dell'ultimo titolo uscito per PlayStation, però il suo comunque lo può dire, quindi per chiunque cerchi una configurazione minima di questa macchina la trova scritta in descrizione. Piccola nota e parentesi, ovviamente per ottenere maggiori risultati, per ottenere una qualità superiore, per vedere meglio un display, ovviamente vanno investiti dei soldi per un buon display, per un buon mouse, per una buona tastiera, per una buona stampante e così via. È ovvio che purtroppo tutte queste cose, a meno che non si investa tanto, non si possono ottenere. Io per esempio utilizzo in casa lo studio display di Apple, ma lo utilizzo vicino a una macchina che è un M2 Ultra, quindi una macchina con un certo valore economico di investimento per lavorare. E utilizzo questo monitor non perché sia il migliore, ma perché un po' per il compromesso funzioni, design, qualità, l'ho preferito pagando un pochino in più. In ufficio per esempio abbiamo un monitor che secondo me rendono meglio di uno studio display di Apple e che costano meno della metà, molto meno della metà. Come abbiamo un monitor carati, super, mega, wow, per lavorare, che costano il triplo di uno studio display, costano quanto un XDR display di Apple. Quindi ci sono i pro e i contro un pochino in tutto. Questa è informatica, quindi è sempre stato così, si paga per quello che si ottiene. E soltanto posso già annunciarvi che in questo caso si paga meno di quello che si ha. Quindi forse è uno dei pochi casi dove Apple dà più di quello che costa la macchina. In realtà è sempre stato così, però almeno dal punto di vista personale, che sono un utente Apple da tanti anni, potete chiamarmi anche fanboy Apple, però io la vedo in questo modo. Veniamo quindi ai test che ho eseguito. I test in realtà non li ho eseguiti solo su queste macchine, ma li ho eseguiti anche su tutte le macchine a cui avevo accesso in queste settimane. A schermo vi compariranno a mano a mano che gli spiego tutti i dati per ogni tipologia di benchmark che ho eseguito. E inoltre in descrizione trovate il link dove avete lo schema completo di tutti questi benchmark, con anche dei filtri per andare a guardare la classifica benchmark per benchmark. Questo link lo terrò sempre aggiornato, ogni volta che farò una recensione aggiungerò una macchina così da avere uno storico anche per il futuro. Allora, io ho a disposizione per far effettuare questi benchmark e per confrontare anche con macchine da lavoro, avevo a disposizione un Mac Studio con un M1 Max, un Mac Studio con M1 Ultra, un Mac Studio con M2 Ultra, un MacBook Pro con M3 Pro, un Mac Mini M4, un Mac Mini con M4 Pro e poi tre PC. I PC li ho inseriti perché secondo me va tenuto in considerazione anche il rapporto qualità-prestazioni con un PC. Questi nello specifico possono sembrare PC da gaming, in realtà lo sono, ma hanno determinate specifiche caratteristiche che ci permettono di poterci lavorare. Di questi tre computer ho elencato semplicemente processore e GPU. In realtà nello schema troverete anche le RAM. La maggior parte sono da 128 GB di RAM, uno da 96, i Mac Mini sono da 16 e da 24, l'M1 Max, Mac Studio è da 32 e il portatile, quindi il MacBook Pro con M3 Pro è da 24. Insomma, sono tutti i numeri che potreste perdere, quindi vi rimando al link qui sotto per andare a vedere tutte le macchine. Ora, come li ho confrontati? Da prima sono partito col fare un giro di benchmark su tutte le macchine per poi arrivare alla parte di pratica di test. I benchmark che ho fatto sono il Geekbench, sia single core, multicore e GPU, ho fatto il Cinebench in CPU e in GPU e poi tre benchmark miei che sono in realtà tre progetti su tre software differenti che ragionano in tre modi diversi e che fanno partire più o meno risorse hardware tra GPU e CPU e sono un benchmark su Fusion che non è altro che un progetto, una composizione abbastanza complessa, passatami da un mio collega, che fatta partire con tutti i computer allo stesso identico modo, alle stesse identiche impostazioni, a me ha impiegato un tempo. Nello specifico il valore che io andrò ad elencarvi è il tempo di calcolo medio per frame. Lo spiegherò anche dopo quando parleremo dei benchmark. Un altro test invece è il render di un progetto di After Effects, stesso identico ragionamento, il valore che vi dirò è il tempo impiegato di render e stessa identica cosa fatta invece con DaVinci Resolve dove c'è una timeline con dei file a re-row quindi molto pesanti, trattati in maniera molto pesante, con un denoise potentissimo, con delle lavorazioni sopra, insomma nulla da vedere in realtà ma erano dei test fatti per sforzare le macchine. Partiamo dai benchmark di Cinebench. Cinebench è un software che potete trovare online e fare il vostro benchmark. Io ovviamente non mi fido di quelli che trovo online, mi sono messo io a spippolare e fare il mio benchmark personalizzato. Allora, che cosa è uscito fuori? Andando a parlare dei benchmark di Geekbench partiamo da quello a single core, ve lo lascio come informazione all'interno del documento perché ovviamente Geekbench dà doppio valore, sia il calcolo, il benchmark per single core che per il multi core. Dato che qua parliamo di valori interessanti in generale, qua parliamo di valori interessanti per l'utilizzo pratico. Quindi parliamo direttamente del benchmark per il multi core, quindi l'utilizzo a più core. Mac Mini con M4 Pro si attesta in seconda posizione dopo il Mac Studio con M2 Ultra. Quello che mi lascia scioccato è che il Ryzen 9950X che è acquistato da poco ed è uno degli ultimi usciti, praticamente performa quasi la metà di un Mac Mini con M4 Pro e proprio a dirvelo a tutta, questo processore costa all'incirca 800€, mentre il Mac Mini completo, quindi configurazione completa, costa 1.6€. Praticamente la metà, soltanto il processore costa la metà di un Mac Mini M4 Pro e rende poco meno della metà. E questa cosa mi ha lasciato davvero perplessissimo perché mi rende questo computer, questo M4 Mini, una cosa abominevole. E parlo però del Mac Mini con processore M4 Pro ovviamente, parliamo quindi del processore in sé, non tanto della macchina. Questi ragionamenti in teoria sarebbero uguali anche sui portatili. Quindi in ordine d'arrivo in pratica si attesta all'M2 Ultra che vi posso già dire su quasi tutti i test batte qualsiasi cosa. Poi abbiamo l'M4 Pro, l'M1 Ultra, poi MacBook Pro con M3 Pro, poi arriva il Mac Mini M4 e solo dopo arrivano i Ryzen, quindi Ryzen 9 9950X, l'M1 Max, il 59X e il 57X, quindi sempre tutti i Ryzen. Tutti quanti dopo arrivano e non riesco a farmene una ragione perché questi processori sicuramente hanno molto di più da dire. E considerate che tutte queste macchine noi facciamo manutenzione praticamente ogni giorno, aggiorniamo driver, facciamo check sul loro funzionamento e rimango veramente sbalordito da questi numeri. Perché in pratica non riesco a capacitarmene di quanto sia potente questa macchina. Probabilmente dirò questa cosa troppe volte e a qualcuno darà molto fastidio. Quindi passiamo invece a un altro benchmark, sempre con GinkBench, ma al benchmark della GPU. Ovviamente qui avendo in gradatoria un RTX 4090 mi aspettavo che fosse in prima posizione perché è una GPU molto ma molto potente. Infatti andando a fare questo raffronto troviamo quello che mi aspettavo, il primo posto la RTX 4090, secondo posto l'M2 Ultra che se sapete i core di CPU e GPU sono nello stesso processore, quindi il nome è unico. Poi troviamo la RTX 3080, poi l'M1 Ultra e fine qui praticamente non mi aspettavo nulla di diverso. Sempre come GPU troviamo poi l'RTX 4060 Ti e poi in coda M1 Max, M4 Pro, M3 Pro e infine l'M4. Ora questi dati io me li aspettavo, infatti mi aspettavo che si attestasse in generare la classifica in questo modo. Però gli unici punti, gli unici benchmark dove l'M4 e l'M4 Pro sono andati male rispetto alla classifica in generale sui competitor sono soltanto i benchmark relativi specifici alla GPU. E questo me lo aspetto perché ovviamente queste macchine, l'M4 non ne parliamo, ma l'M4 Pro e l'M3 Pro hanno molti meno core dedicati alla GPU rispetto a M1 Ultra e M2 Ultra invece che ne hanno molti di più e possono andare a confrontarsi con schede video come l'RTX 3080, la 4060 o addirittura la 4090. Io per esempio l'M2 Ultra e l'M1 Ultra non sono le configurazioni massime disponibili per i core di GPU, ma sono la configurazione intermedia. Probabilmente questo infice tantissimo l'utilizzo della GPU. Per quanto riguarda il GeekBank GPU, vince ovviamente la 4090, l'M4 Pro e l'M4 non fanno grandi numeri. Io sono di un avviso che la grande potenza di questi computer e dei processori Apple Silicon si ha nell'abbinata CPU-GPU, quindi quando i core lavorano contemporaneamente. Quando succede questa cosa, e succede per esempio sui software come Fusion, DaVinci, un pochino anche su After Effects, quando lavorano in combinata fanno esplodere tutto perché non è come Windows che o fai lavorare la CPU o fai lavorare la GPU. Apple probabilmente ragiona e fa ragionare le proprie macchine in un modo totalmente diverso facendole lavorare insieme. E quando fanno lavorare insieme CPU e GPU costantemente le performance sono straordinarie. E questa cosa la vedremo quando parleremo dei benchmark, quelli fatti da me sui test pratici. Passiamo adesso a Cinebench, non voglio soffermarmi troppo in realtà, però facciamo una scorsa un po' più veloce. Parliamo di Cinebench, quindi Maxon con Cinema 4D ha il proprio benchmark, sia versione CPU che versione GPU. Nella versione con CPU vince M2 Ultra, poi viene l'M1 Ultra, RTX 4090 e poi troviamo l'M4 Pro. E questa classifica me l'aspetto ed è quella che volevo leggere. Mi aspetto di leggere prima M2 Ultra, M1 Ultra e poi in realtà il Ryzen 9950 perché sono processori più complessi e più costosi. E subito dopo troviamo l'M4 Pro che batte un Ryzen 9 5009X, l'M3 Pro e me lo aspettavo, l'M4, l'M1 Max e un Ryzen 7 5007. Questa è la classificazione che mi aspettavo, non mi aspettavo che invece in altre circostanze addirittura l'M4 superasse gli altri. Sempre Cinebench, adesso parliamo di GPU e qui si nota tutta la grande differenza con le schede video perché con le Nvidia RTX che hanno tantissima potenza di calcolo, proprio dedicata a tutto questo mondo del 3D. Infatti è l'unica applicazione dove anche nel video precedente io consigliavo sempre un PC da gaming insomma perché queste macchine ovviamente non eccellono in prestazioni GPU. Probabilmente fatto che queste macchine non abbiano, anche le M2 Ultra e le M1 Ultra non sono configurate con il massimo decor della GPU possibili, sono nella versione intermedia, comunque hanno meno potenza di calcolo rispetto per esempio a una 4090. che infatti nel Cinebench vince una 4090, arriva la 3080, 4060 e poi troviamo M2 Ultra, M4 Pro, quindi si attesta subito dopo l'M2 Ultra e sopra l'M1 Ultra, l'M3 Pro, l'M4 e l'M1 Max. Da notare come l'M4 base da 729€ è sempre sopra nei benchmark all'M1 Max, M1 Max parliamo ovviamente in questo caso di un Mac Studio, una macchina da 2500€ all'uscita in realtà fino alla vendita, comunque se si va a prendere un'M2 Max è quello so per giù il costo, e comunque un'M1 Max ad oggi anche usato non lo si trova a meno di 1200€, 1300€, viene battuto a mani basse da un'M4, base da 730€. Ed è qui che va ragionato e va pensato che una macchina di nuova generazione, più piccola, più compatta, più economica, batte una macchina che tuttora usata, costa di più, è più grande, ha dei consumi differenti. Insomma è davvero impressionante, quindi il loro posizionamento, non mi aspettavo che queste macchine battessero macchine più performanti, ma ne aspettavo di trovarle un pochino più in classifica. Per esempio questa classifica della GPU è quella che in realtà avrei scritto io su carta senza fare i test, ma il test me lo conferma che ovviamente le RTX con il punto di vista della GPU sono molto più performanti. Sarebbe da provare l'M2 Ultra attualmente con la configurazione GPU più potente, purtroppo non è a disposizione, quindi non ho potuto fare questo test, non ho manco amici che ce l'hanno, quindi non ho potuto chiedere loro. Veniamo adesso a quello che è il test che più mi è interessato, il test su Fusion, perché sono tutte macchine che lavorano con Fusion tutti i giorni. Mi aspettavo che macchine più costose fossero più performanti. In realtà, e parliamo che questo è uno dei test fatti da me, svolti da me, con delle attività quotidiane, quindi una cosa che in realtà facciamo tutti i giorni, quindi una vera prova sul campo. E andando a vedere i benchmark sono rimasto completamente sbalordito. Perché? A parte che non avevo mai confrontato tutte le macchine in ufficio, perché davo per scontato che un paio di PC che avevamo di Workstation fossero più potenti anche dell'M1 Ultra, invece non è così. Nello specifico, questo test che consta nel render di 400 frame di un'animazione 3D completamente compositata in Fusion, con motion blur renderizzata senza proxy, insomma bella complessa, il valore che ne esce fuori è la media tempo di render per frame. Quindi se un frame si renderizza in un secondo e un altro in 10 secondi, si fa la media tra i due numeri ed esce fuori 5. Quindi il valore che leggerete e che vi sto per elencare è la media, il tempo medio di calcolo per frame. batte tutti l'M2 Ultra in una maniera atroce perché doppia praticamente macchine che ritenevo essere più performanti e fa 2,9 secondi per frame, una media. Subito dopo arriva l'M4 Pro ed è questa la cosa che mi ha spinto a comprarne anche altri per sostituire le macchine in studio, perché fa 4 secondi e 1. Dopo l'M4 Pro arriva l'M1 Ultra che mi sarei aspettato facesse un po' meglio, arriva con 4,37, quindi siamo lì con i tempi. E solo dopo arrivano le workstation con la 4090, con la 3080 e perché cito le GPU? Perché sono abilitate al calcolo e render all'interno di Fusion. La workstation con la 4090 che è la più costosa in pratica a mia disposizione fa un tempo di 4,73, quella con la 3080 fa un tempo di 5,28 e poi si arriva all'M1 Max che fa 6,98, quindi c'è un bel distacco. E soltanto dopo troviamo il Mac Mini M4, quindi versione da 730€, solo dopo troviamo il MacBook Pro con processore M3 Pro, ma qui secondo me è entrato in funzione il fatto che era batteria. Infatti dovrei rifare i test per rivalutare, ovviamente le prestazioni calano quando si utilizza la batteria, anche se disabilitiamo tutto. Io per esempio sul mio portatile ho disabilitato qualsiasi tipo di risparmio energetico, anche sotto sforzo, però evidentemente come forma di conservazione comunque è andato più lento. Questa cosa un pochino mi disturba, infatti vorrei riprovare a fare questi test sul portatile tenendolo collegato alla corrente, infatti ho sbagliato, non dovevo utilizzare la batteria. Comunque si attesta a 7 secondi e 27, poi arrivare all'ultimo Ryzen con la 4060 che si attesta a 7,86. Questa tabella ci fa capire che utilizzo reale di questi computer, come questo con l'M4 Pro sia potentissimo. Nella tabella, una cosa che non vi ho detto prima, ho inserito anche il costo di ogni singola workstation. Per farvi capire, l'M4 Pro arriva subito dopo l'M2 Ultra che costa 6.000€ e l'M4 Pro ne costa 1.600€. Capite che me li faccio andare bene questo secondo e mezzo in più. In realtà il grande problema e il limite, poi ne parleremo dopo, è la RAM. Andrebbe pompata un pochino di più la RAM, ovviamente quando lo si fa poi il costo della macchina sale, perché applicativi come After Effects, Fusion, utilizzano tantissima RAM perché salvano in memoria flash, quindi in memoria RAM, tutte le informazioni di cui hanno bisogno per il render. E quello è l'unico grande limite, però ne parliamo dopo quando facciamo la considerazione dei pro e dei contro. Andiamo adesso al benchmark relativo al calcolo su After Effects. Senza andare a parlare dei tempi, anzi stiamo parlando anche dei tempi, anche se in realtà si staccano di poche decine di secondi l'uno dall'altro. Vi vado a elencare quella che è la classifica, dove vince sempre M2 Ultra. Arriva poi l'M1 Ultra e solo di poco, adesso andiamo a vedere quanto, c'è l'M4 Pro. L'M4 Pro si stacca di circa 30 secondi dal secondo classificato nel tempo di render. E solo dopo arrivano il PC con Ryzen 9 9950X, che tenderò sempre a nominarlo perché l'ho pagato 850-800€ questo processore, con la RTX 4090. Poi dopo il portatile, il MacBook Pro con M3 Pro. Poi arriva l'M4, quindi sempre questo, che fa un tempo di 4 secondi e 20, quindi neanche malaccio in realtà. E poi dopo arriva l'M1 Max, che poverello ormai è alla fine dei suoi giorni praticamente, e solo dopo gli altri due PC. Non riesco a comprendere le motivazioni, quindi rimango completamente ancora sbalordito dalle prestazioni di questi computer. Chiudiamo invece con l'ultimo benchmark che ho fatto, che è quello di DaVinci Resolve. DaVinci Resolve è il software che sfrutta meglio la GPU. Di tutti i software che utilizziamo quotidianamente, da Premiere, After Effects, Fusion, DaVinci e quant'altro, oltre ai programmi 3D che sfruttano la GPU per il calcolo, DaVinci è l'unico che la riesce a sfruttare sia su Mac che su Windows indipendentemente al meglio. E qui infatti esce fuori tutta la potenza della 4090 che vince il test con il render in un minuto e un secondo. Solo dopo arriva l'M2 Ultra con 2 minuti e 59 secondi, poi l'M1 Ultra con un minuto in più e dopo arriva l'M4 Pro. Ma questa classifica ancora una volta mi sbalordisce perché comunque l'M4 Pro rimane sopra tutto il resto delle macchine. Il tempo è un pochino più lungo, però diciamo che mi accollo la differenza di tempo di questo render rispetto al costo della macchina. Perché se le altre macchine hanno un costo tra i 6.000 e i 4.500 euro, questa con M4 Pro costa 1.600 euro. Quindi sto utilizzando sempre la macchina a 1.600 euro. Che in un ambiente professionale, quando si lavora, beh c'è da fare la differenza se si utilizza una macchina che ha un costo piuttosto che un altro. Perché fa tanta differenza se io devo adoperare 10 workstation per far lavorare gli artisti e spendo 6.000 euro a workstation, è un costo impegnativo. Se ne spendo 1.500 euro, è un altro costo. Questi benchmark cosa ci raccontano? Ci raccontano che questa macchina, nello specifico il Mac Mini M4, diventa veramente un must have per chi fa attività di elaborazione immagini. E quando parlo di elaborazione immagini, mi riferisco esplicitamente a fotografi, grafici, impaginatori, programmatori. Perché tutti i test che ho fatto superano di gran lunga le richieste hardware di queste figure professionali che vi ho spiegato. Per esempio, l'M4 Mini Base è un'ottima macchina per fare editing. Infatti, uno dei video caricati sul canale l'ho montato proprio con questa macchina qui. E tra le altre cose, i file non erano neanche conservati sull'hard disk, sull'SSD, ma era collegato tramite porta LAN a 2,5 gigabit a un NAS dove prendeva i file. E io non ho mai avuto neanche un secondo di lag, un problema. L'unica cosa un pochino più lunga è stato il tempo di render, ma più lunga comunque perché il video era lunghetto. E dato che io monto con DaVinci, una cosa che DaVinci fa quando esporto, mi dà quanti fotogrammi al secondo sta elaborando. E ne elaborava comunque 115, quindi era comunque veloce. Questo numero l'ho visto anche molto più elevato sulla workstation con la 4090, su M2 Ultra. Però ci sono stati picchi a 100 fotogrammi elaborati al secondo anche dal Mac Mini M4 base. E ragazzi, parliamoci chiaro, se sono un professionista ed ho bisogno di una seconda macchina per montare o una prima macchina per montare, una prima macchina non prenderei mai l'M4 base, prenderei comunque un M4 Pro. Ma con l'M4 base e una seconda postazione di montaggio ce la faccio abbondantemente. Cosa che questo M4 Mini diventerà una postazione di montaggio. Montaggio di cosa? Sicuramente i file che ho testato sono 4K, 50 fotogrammi al secondo, 4, 2, 2, 10 bit. Ora, la timeline che ho testato a lungo non era molto complessa, non aveva tanti effetti, però aveva un buon mix audio fatto e un po' di color un po' più spinta fatta. Certo, se andiamo ad aggiungere un po' di denoise, andiamo ad aggiungere la grana, ovviamente complichiamo il calcolo e non possiamo aspettarci che vada quanto un M2 Ultra. Ma sempre riferito alla prestazione, qualità-prezzo, secondo me l'M4 Mini base non ha uguali. Se un fotografo ci puoi lavorare, se un grafico ci puoi lavorare, programmi ci puoi lavorare, fai siti web ci puoi lavorare, fai montaggio video ci puoi lavorare, sei un videomaker ci puoi lavorare. Secondo me questa, parlando sempre del mondo dei mini PC, perché poi di mini PC ne esistono anche assemblati con schede grafiche più potenti, quindi comunque non vanno come vanno queste cose qui e sicuramente non costano quanto questo. Questa è la più grande differenza per il quale io consiglio questo tipo di macchina. Vediamo adesso a quelli che sono per me i contro che ho trovato nei Mac Mini. Li elenco un pochino a caso. Il primo sicuramente è la critica che ho fatto anche ai computer con M1 e Mac Studio, la non aggiornabilità. Cioè se io compro una macchina con 16 GB di RAM, non posso farci nient'altro che tenermela così per sempre. Questo in realtà è il più grande limite di queste macchine, il fatto di non poter essere aggiornate. Però sappiamo che Apple è una gabbia d'oro, quindi ci danno performance design in una macchina piccola, il compromesso è che non possiamo farci niente più che utilizzarla per come nasce di fabbrica. Passiamo poi al fatto che ovviamente devo dirlo il pulsante sotto d'accensione. Ora, nell'altro video che ho fatto ci scherzavo sopra, in realtà ci scherzavo e neanche tanto, nel mio caso specifico, almeno io, i Mac non li spiego mai. Qualche volta gli do una botta di riavvio, se sto lontano per troppo tempo, parliamo di giorni, settimane, li spengo, ma altrimenti le macchine per me rimangono sempre accese e non ho mai la necessità di spegnerlo o riavviarlo. Quindi questi Mac Mini in realtà, una volta che saranno accesi, ma chi li spegne più? Anche perché il loro consumo è talmente basso quando sono in idle, quindi in modalità stand-by, che è praticamente come tenerli spenti. E quindi un pochino il problema del pulsantino sottopassa. Però, dall'altro lato, devo dire che il pulsante sotto è davvero brutto da vedere. Anche se, per chi non fosse proprio avvezzo al design industriale, oppure alla tipologia di design che è il disruptive design, è una tipologia di design dove si volutamente il designer complica un'azione per fare in modo che questa azione non venga effettuata. Nello specifico, Apple più volte ha fatto uso del disruptive design per disabituare l'utente a fare una determinata azione al quale è sempre stato abituato. Pensiamo, per esempio, al jack delle cuffie sull'iPhone. Apple è stato il primo a eliminarlo e grazie al loro design odiato, quindi, dell'eliminare quel jack, alla fine, oggi, il jack per le cuffie viene utilizzato in pochi altri ambiti, ma sicuramente non sugli smartphone. O almeno, non sull'80% degli smartphone. Probabilmente Apple vuole fare la stessa cosa con questo pulsantino sotto. Lo aggiunge perché deve aggiungerlo, ma lo mette in una posizione talmente scomoda che ti fa scocciare di dover spegnere il computer, così che ti fa abituare e ti fa disabituare allo spegnimento del computer. Loro vogliono che tu lo tenga sempre in stand-by. Una critica che devo muovere, e che per me è un altro contro, è che non ci sono porte USB-A. Ora, certo, l'USB-A è uno standard che deve tendere a morire. Anche qui c'è il discorso del disruptive design, perché una porta USB-A probabilmente da qualche parte potevano infilarla. Mi dà fastidio, perché mi costringe ad acquistare un hub USB-C per avere una, due, tre porte USB-A, perché purtroppo ci sono sempre i dispositivi che vanno connessi via USB-A. E qui mi ricordo di quel prossimo punto, che è una cosa che mi ha dato fastidio già su i Mac Studio, in realtà. C'è un problema. Quando si compra uno di questi, non si hanno tastiere mouse Apple. Infatti, se noi non compriamo una tastiera mouse Apple, un Magic Mouse o una Magic Keyboard, noi uno di questi non possiamo avviarli se non collegando una tastiera mouse con cavo. Perché soltanto dopo aver collegato una tastiera mouse con cavo, abilitiamo il sistema operativo, facciamo tutta la prima configurazione, solo allora potremo utilizzare il Bluetooth per connettere una tastiera mouse Bluetooth. Mentre con tastiere mouse Apple, alla prima accensione, c'è una pratica nello specifico, si mantiene premuto il tasto di accensione, si abbinano direttamente mouse e tastiera. Ecco, questa è una critica che faccio, perché se io non voglio comprare mouse e tastiera Apple, in pratica devo comprare un hub USB-C per collegare un mouse e una tastiera USB, che è un po' difficile trovarli con USB-C, o se le troviamo costano, e comunque sono a cavo, per poter configurare il computer. Quindi questa per me è un'altra dei contro che vado a segnalare. Come un altro dei contro è la mancanza di una porta per l'SD card. È una mancanza in realtà, perché anche se è una macchina non pensata per il lavoro, anche se ci monti un M4 Pro, evidentemente stai puntando al mercato del professionista, una scheda SD è la base, perché tutte le macchine fotografiche, il 99,5% delle macchine fotografiche, portano l'SD. Certo, ci sono i casi dove, altamente professionali, invece delle SD, troviamo le Compact Flash, le CFexpress, le CFast 2, insomma ce ne sono altro tipo, e là ci sono i lettori. Però una mancanza che ho sentito è proprio quella di un lettore SD. Un altro contro che voglio segnalare è il fatto che comunque, quando sono sotto sforzo, la ventola si sente. Ora, non è un problema, però sono abituato al Mac Studio, dove sotto sforzo non si sente assolutamente nulla. Questi ovviamente sono più piccoli, hanno un'ingegnerizzazione complessissima, e sotto sforzo il Mac Pro, mi è successo con il Mac, con l'M4 Pro, a un certo punto la ventola è partita, perché si vede che lo stavo cannando, bello a bestia. Quindi, quando si esagera, la ventola parte. Però in quel caso vi posso assicurare che era la fine di tutti i benchmark, e stava facendo il benchmark di DaVinci Resolve, quindi dove sparava a palla GPU e CPU. E poi lo cito come un contro, in realtà devo verificare perché ha fatto questo errore. In ufficio ho un monitor LG configurabile tramite USB-C, quindi si collega tramite USB-C, e prende il segnale. Infatti questo monitor è affiancato vicino all'M1 Ultra, e ci lavoro serenamente. Vado a collegare qui, vicino l'M4 Pro, sì, era l'M4 Pro stamattina, e quel cavo non funzionava. O meglio, non mi leggeva nelle porte USB dietro al monitor, né mi passava il segnale video. mentre collegando un cavo USB-C display port funzionava. Questa cosa devo capire se è un problema di quel cavo della mia macchina, di quella tipologia di monitor, o se è una cosa generalizzata che non si possono abbinare computer monitor con USB-C. In realtà io i test li ho fatti con lo studio display di Apple, che è soltanto USB-C, e ovviamente funzionava. Quindi, devo capire se i monitor di terze parti possono funzionare con questa metodologia, oppure no? Penso di sì, e penso che sia stato un problema di configurazione del mio monitor, però io questa cosa la segnalo. Per me questi sono i contro, perché poi io ho tre Pro da segnalare, che in realtà sono quelli che segnalano un pochino tutti. Però, dal mio punto di vista, dove ho fatto un'analisi un pochino più tecnica, vi posso dire che per me i 3 Pro sono la potenza, il design e il rapporto costo-prestazioni. Nel rapporto costo-prestazioni, secondo me, non ci sono uguali, perché questa macchina M4 Pro è arrivata praticamente seconda o terza rispetto all'MU2 Ultra, all'MU1 Ultra, a una workstation 1-4090, dove il costo medio di quelle macchine è 5.000 euro, e questa ne costa 1.600. Quindi arrivare in competizione con quelle macchine lì, con un rapporto molto labile, fa davvero la tanta differenza, ed è davvero... Sono rimasto davvero molto scioccato. Infatti, è da giorni che non parlo altro con i miei colleghi, sto consiglando a tutti quanti di comprarne a cassettate. Insomma, scherzi a parte, se nel video precedente avevo scherzato sul fatto che queste erano delle ottime macchine, non c'erano motivi per non acquistarli, adesso me ne sono dato prova e ve ne do prova con tutta una serie di test e benchmark. Ovviamente, le ho testate per dei giorni, differenti giorni, ci ho lavorato, e sull'M4 Pro ci ho compositato, quindi ci ho lavorato con Fusion, e l'unico limite che ho trovato è quello della RAM, dove questa macchina ha 24 GB di RAM e ovviamente le preview, quando facevo render che mandava in RAM, arrivate 24 GB, si fermavano le preview, perché ovviamente è un limite fisico. Su macchine con 128 GB di RAM questa cosa non avviene, perché c'è un po' di spazio in più. Tolto quel limite, restano delle fantastiche macchine da lavoro e perché no, anche nell'utilizzo quotidiano a casa. Insomma, io spero che questa recensione, video, approfondimento, test, benchmark, vi sia piaciuto e vi sia tornato utile nella scelta se acquistare o meno uno o più Mac Mini per la vostra attività o per casa vostra. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto, nei commenti, e perché no, scrivetemi anche su Instagram, dove pubblico altri contenuti e entriamo un pochino più nello specifico nella mia vita quotidiana e professionale. Vi ricordo di fare una passeggiata sul sito vfx4.it per scoprire dove terrò i prossimi workshop. Cos'altro dirvi? Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo al prossimo video.